Sì, sì, ma è stata una grande manifestazione con molta, moltissima gente. Sì, penso che sia a Catanzaro sia alla Mezzaderme sia venuta una manifestazione straordinaria. Abbiamo aperto, spero, un modo nuovo per festeggiare l'arrivo della Befana, normalmente legata solo ai doni e ai bambini, ma nel nord Italia e nel nord Europa è una festa importante che porta insieme anche le persone nelle piazze, quindi speriamo che si inizi una nuova tradizione anche qui al sud. Il prossimo anno le corpazie, anche alla mezza, dai, progetto. Speriamo di sì. Grazie a te.